Buonasera a tutti, benvenuti nel comprensione sciistico di Lorica. Io sono Pierluigi, direttore della scuola Scipote Donato. Qui abbiamo Serafino, uno dei nostri maestri della nostra scuola. Che dobbiamo dire? Vi invitiamo tutti quanti a venire qui in questa splendida località a imparare a sciare. Siamo a due passi dalla città, a due passi dal mare. Cosa volete di più? Come vedete la neve c'è e ce n'è anche tanta. In questo momento è aperto questo splendido campo scuola. Oggi purtroppo non riusciamo a farvi vedere delle immagini ma è stata una giornata fantastica. Abbiamo fatto delle belle lezioni, tutti i bimbi sono gli riusciti a sciare, i genitori contentissimi. Passo la parola al mio collega che magari vi dirà qualcosina di più. Buonasera a tutti, sono Serafino, uno dei maestri di sci della scuola Scipote Donato e siamo qui apposta per rendervi felici, bambini, adulti, perché proprio come al contrario dicono gli altri, imparare a sciare lo si può fare tutti, non esiste un'età per imparare, anzi in qualsiasi età l'importante è che si mette in gioco il nostro allievo. Noi siamo qui pronti a rendervi felici e a farvi, oltre che insegnarvi a sciare, a farvi passare delle ottime giornate all'aria aperta, visto che in questo periodo lungo di covid, robe varie, è in compagnia ma sempre in sicurezza, come vedete usiamo tutti sempre la mascherina, abbiamo avuto varie critiche nei giorni passati, che non c'era la sicurezza giusta, non badate le critiche, piuttosto venite a trovarsi così lo vedete con i vostri occhi, vi aspettiamo qui all'Orica, un abbraccio a tutti. Concludo invitandovi nuovamente a venire all'Orica, noi siamo qui ad aspettarvi, mi dispiace che non ci sono gli altri maestri ma dopo una dura giornata di lavoro giustamente sono andato a rifaggellarsi. Grazie a tutti, Buonasera a tutti.